Nella città delle polemiche e dei 99 comitati, neanche l'area natalizia di festa è riuscita a mandare in soffitta, almeno per qualche ora, la capacità che hanno spesso gli aquilani di dividersi anche sulle questioni più futili, come l'aperitivo di Natale. Una tradizione che ogni anno si arricchisce di presenze e che, comunque la si pensi, riesce a portare per strada migliaia di persone per le vie di un centro storico, normalmente animato esclusivamente da operai e cantieri, dove la polvere provocata dai lavori la fa da padrone. E la polemica, come sempre più spesso accade, parte dai social network, dove gli indignados da scrivania hanno sin dalla serata del 24 iniziato a postare anatemi e messaggi moralizzatori per le cartacce, le bottiglie ed i resti di una festa collettiva che si è protratta sino all'ora di cena. Certamente ci sarà stato chi, nella massa, avrà abbandonato rifiuti per strada, disinteressandosi del bene comune, ma molti, osservati anche da chi vi parla, hanno conferito plastica, vetro e carta nei contenitori della differenziata, forse insufficienti a contenere l'amore di rifiuti generata dalle migliaia di persone che si sono riversate in centro storico. A mettere a posto tutto ci hanno pensato gli operai dell'SM, solo in cinque il turno quel giorno, e che nel giro di qualche ora, con un solo mezzo a disposizione e tanta voglia di energia nelle braccia, hanno restituito decoro e pulizia agli angoli della città dove hanno stazionato per ore gli avventori. Insomma, una situazione straordinaria ma al tempo stesso gestibile, magari con qualche castanetto in più, che probabilmente verrà predisposto il prossimo anno, è un pizzico di buonsenso che non guasterebbe, sia da chi maestra da divertirsi, sia da chi è pronto a pigiare un tasto per scatenare una discussione fine a se stessa. Il giorno di Natale tutti a tavola e polemiche già in soffitta, perché nella città della ricostruzione i pensieri di molti sono rivolte a questioni più importanti, come la voglia di normalità perduta, che anche solo un brindisi in compagnia può regalare, magari per qualche ora, prima di tornare ad una realtà fatta di macerie e speranza nel futuro.